Buonasera a tutti e benvenuti all'edizione speciale del Tg Forte e Chiara. Mandiamo in onda il servizio. Auguri di buon anno. Il 2019 sarà il decimo anno della compagnia teatrale Forte e Chiara. Festeggiatelo insieme a noi dal 14 gennaio ogni lunedì alle 20 sul canale YouTube Forte e Chiara. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Bene, come ci ricordava il servizio, l'appuntamento è per il 14 gennaio. Buonasera e buon proseguimento di serata.